Vediamo ora come funziona Anchor sul cellulare Si scarica innanzitutto l'applicazione Anchor crea il tuo podcast È un'applicazione messa a disposizione da Spotify Potete scaricarla sia per Android come in questo caso Sia per iOS Quindi fate apri e aprite l'applicazione Apri Una volta che l'avete installato Apri E vi riporta quindi dentro al sito di Anchor Dovete registrarvi Se l'avete già fatto farete accedi Da qui Io potete continuare con Google Per iscrivervi oppure Si può iscriversi con la propria mail Io sono già iscritta e quindi vado in Accedi Mi chiederà la mia mail e la password Oppure mi chiederà una volta che ho fatto l'accesso Di accedere attraverso Facebook, Twitter, eccetera, eccetera Io mi sono registrata con facebook e quindi accedo Come vedete mi manda il mio episodio, dal mio ultimo episodio Che è quello di benvenuto nel modulo 3 E poi mi dà la possibilità di Posso andare a vedere il mio podcast E quindi l'interfaccia Da il tuo podcast A questo tasto in basso E potrei anche creare un trailer introduttivo Lo farò Adesso volevo farvi vedere le funzionalità base Vedete che anche da cellulare Ho a disposizione tutti i podcast Che avevo già registrato Quindi di seguito Ho la possibilità con scopri Ecco Di cercare podcast e parole chiave E per esempio non so Potrei scrivere gioco E quindi potrei vedere Prendiamo il primo Tanto per vedere il gioco Delle emozioni in gioco E potrei Con la stellina Se mi piace questo podcast Che ho trovato Rispetto ad un argomento Che stavo poi cercando Potrei metterlo tra i miei preferiti In modo da ritrovarlo Torno indietro Per farvi vedere Le altre Vado di nuovo in scopri Ecco E posso scrivere altre parole Per naturalmente Tiro via il gioco Per trovare degli argomenti O altri che hanno pubblicato Dei podcast relativi A un mio interesse Posso anche Se voglio Invitare Qualcuno che ha qualcosa da dire O condividere il podcast Vado Vado Ma non mi interessa Fare questo In questo momento Ma vado Voglio andare a vedere Gli altri Tasti Cioè le altre opportunità Che mi dà Questa applicazione Ritornando Nell'interfaccia Di scopri Vedete che Trovo Music Talk Creazione Del tuo podcast Episodi Usando gli strumenti Di Anchor Fatto con Anchor Amplifying Black Voice Eccetera Fantastiche idee Per il podcast Cioè posso Quindi Con Scopri Andare a scoprire Le cose Che mi interessano Poi Ho Come vi dicevo Prima La possibilità Di vedere Il tuo podcast Premendo Sul mio podcast Con tutte Quindi Gli episodi Di podcast Registrati Posso Poi Andando Nel Più Strumenti Più Strumenti Di strumenti Facendo Proprio Sul più Creare Un nuovo Podcast Faccio Sul più Ok E Posso Iniziare La A questo Punto La Mia Registrazione Premendo Sulla Tasto Registra Volevo Registrare Un altro Episodio Sull'avatar Quindi Premo Adesso Su registra E inizierò La registrazione Vera e propria L'avatar 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 È la rappresentazione Grafica Di una persona Simile O dissimile Potrebbe Rappresentare Una Idealizzazione Di sé Una Visione Un'incarnazione In simulacri Umani O Animali Ho Ho fatto Stop Voglio Ora Aggiungere Una Aggiungi Musica Di sottofondo Clicco Su Aggiungi Musica E vado A cercare Quindi Potrei Cercare Anche Nella Casella Cerca Ne prendo Uno Qualsiasi Prendiamo Sentiamo Picot Teniamo Questo Quindi Ho Aggiunto Picot Al mio Podcast Proviamo Ora A sentire Il risultato L'avatar L'avatar È la Rappresentazione Grafica Di una Persona Simile O Dissimile Potrebbe Rappresentare Una Idealizzazione Di sé Una Visione Un'incarnazione In simulacri Umani O Animali Ok Vado Ora Vabbè È venuto Come è venuto Perché Nella Trasposizione Sul computer È così Poi Andiamo A salvare In salva Ok Mi dice Come si chiama Questo Segmento Quindi Aggiungi All'episodio Quindi Questo segmento Lo chiamo Avatar Ad esempio Rappresentazione Ecco E Quindi Aggiungi All'episodio Vado Ad aggiungere Questo Fatto Vado Ad aggiungere Una Registrazione All'episodio Ecco Mi sta Elaborando Quindi L'Avatar Rappresentazione Ci vuole Un attimo Dipende Poi Dalla Dalla Rete Dalla Velocità Della Rete E vedete Che Ho Ottenuto La mia Registrazione Che Andrò Poi A pubblicare Propria L'Avatar È La Rappresentazione Grafica Di Una Persona Simile O Dissimile Potrebbe Rappresentare Una Idealizzazione Di Sè Una Visione Un'Incarnazione In Simulanti Umani O Animali Se Vado Ora Nei A Tre Puntini Ho La Possibilità Di Modificare La Musica Di Sottofondo Se Voglio Modificare L'audio Rinominare Questo Segmento Oppure Di Eliminare L'episodio Potrei Voler Modificare Ad esempio L'audio Questo Audio E Togliere Un Quel Pezzettino All'inizio Che Mi Dava Mi dava Noia E Quindi Potrei Agendo Su Aspettate Che faccio Ecco Con Dividi Potrei Ecco Togliere Un pezzettino Ma dopo Lo farete In modo Accurato Quindi Clicco Su Dividi E mi Dice Riproduci Da Qui Quindi Rinomina Riproduci Da Qui Riproduco Da Qui Ok Ecco Quindi Vedete Che ho Anche Vado A salvare Ecco Vedete Vedete Che Mi Dà La Possibilità Di Avere Quindi L'avatar Rappresentazione Quello Che ho Modificato E L'avatar Rappresentazione Originario Quindi Ho Sicuramente A disposizione Tutti e due I file In caso Volessi Recuperare Quello Che avevo Fatto Vado Ora In Pubblica Ok Darò Un titolo All'episodio Una Descrizione All'episodio Ho Scritto Quindi Nel titolo Dell'episodio Rappresentazione Con L'avatar E Nella Descrizione Dell'episodio Ho Scritto Come Ci Si Rappresenta Vado In Fatto E Vado Poi A Compilare Le altre Le 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 Altre Voci Stagione Mettiamo Che sia Mettiamo Dieci Poi Successivo Mettiamo L'episodio Tre Tanto Permette Il numero Dell'episodio Fatto Pubblica Ora Ecco E questo E questo Il Mio Quindi Podcast Pubblicato Posso Condividere Questo Episodio Ma Non Lo Condivido Perché Penso Di poterlo Rifare Meglio Nei Social Copiare Il link Da Condividere Oppure Anche Come vedete Giustamente Nei Social Questo Quindi È Molto Interessante Da utilizzare Potrebbe Essere Sicuramente Molto Utile Per Gli Studenti E Molto Allettante Da utilizzare Per Loro Posso Aggiungere Altri Episodi Poi vado Nel tuo Podcast E vedete Che Nel podcast Trovo La rappresentazione Con Con L'Avatar Ok Quindi L'Avatar Rappresentazione Potrei Anche Così Fare Altre Operazioni Vedete Su Di Quindi Registrazione Di Altri Di Altri Episodi Arrivederci A dire il vero Adesso Andiamo a vedere Un'altra Cosa Cioè Se Clicco Sui tre Puntini In alto Quindi Dell'episodio Che ho appena Registrato Tre puntini In alto Vedete Che ho la possibilità Di aggiornare I dettagli Dell'episodio Di annullare La pubblicazione E di eliminare L'episodio Mi interessa Aggiornare I dati Dell'episodio I dettagli Dell'episodio Clicco E Una cosa Che prima Dovevo dirvi Di fare E' quella Di cambiare Magari La 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 foto E quindi L'immagine Che mi rappresenta Questo Episodio Di podcast Quindi Clicco Su La La Penna E ho la possibilità Di scattare Una foto O di scegliere Una foto Esistente Vado a sceglierne Una Qualsiasi Tanto per Che è presente Sul mio computer Tanto per farvi Vedere Questa operazione Ad esempio Scelgo Questa Questa Posso anche Naturalmente Modificarla Ridurla Eccetera O scalarla E E Do l'ok Quindi Vedete Che Ora La Immagine Del mio Podcast Episodio Nuovo È stata Messa Nell'episodio Al posto Di quella Generale Del mio Podcast Vado in Salva Le modifiche E Quindi Vedete Che È tutto Perfettamente Riuscito Ritorno Indietro Al tuo Podcast Ad esempio Il tuo Podcast Questo in basso Ecco E Come vedete Ho gli episodi Sono Negli episodi E vedete Che tra gli episodi C'è l'episodio nuovo Rappresentazione Con L'avatar Questo E Posso Cliccare E sentirlo Come Abbiamo Fatto Prima Adesso Lo Fermo Proprio Ecco Questo Sono le indicazioni Minime Per poterlo Utilizzare Da Cellulare Vi 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 Dico Che C'è L'app L'app Tanto Per Android Che Per iOS